La decisione di sopprimere il reparto Covid e la pneumologia presso l'ospedale Spock di Corigliano Rossano ha scatenato un dibattito acceso soprattutto sugli impegni che in passato erano stati assunti per il mantenimento almeno della pneumologia. Le dichiarazioni del direttore sanitario dell'ASPE di Cosenza, Martino Rizzo, hanno gettato luce sulle motivazioni dietro questa scelta e sulle prospettive per l'assistenza ai pazienti post-Covid. Nello Spock Corigliano Rossano sono previste tutta una serie di attività ma non è prevista la pneumologia che è invece prevista a Castrovillari tra l'altro credo con una riduzione del numero dei posti letto perché la pneumologia come le altre specialistiche di un certo livello si prevedono a livello regionale e la regione che stabilisce che programma le attività da fare e dove farle. L'alto dirigente ricorda che il reparto Covid è stato istituito in risposta all'emergenza sanitaria ma con il declino dei casi la sua utilità è diminuita. Il reparto Covid è stato attivato nel momento in cui per la situazione di emergenza occorreva trovare dei posti letto ed è stato un reparto di medicina Covid quindi abbiamo utilizzato alcuni professionisti pneumologi territoriali per garantirci l'attività in questo reparto che devo dire ha dato una grossa mano all'assistenza di questi pazienti che fino a poco tempo fa avevano delle gravi patologie respiratorie. Rizzo ha sottolineato l'intenzione di garantire un servizio di esistenza di secondo livello anche nella fase post Covid. Quello che noi abbiamo intenzione di fare è però non abbandonare questi pazienti che hanno degli esiti di Covid che sono molti organi questi esiti per cui vorremmo comunque continuare a garantire delle prestazioni di secondo livello per assicurare l'assistenza anche in questa fase nel post Covid diciamo.